A Sanremo questa mattina è stato presentato il calendario dell'esercito 2024 per l'Italia sempre, prima e dopo l'8 settembre 1943. Quest'anno abbiamo voluto scegliere oltre la tradizionale sede di presentazione del calendario che è Genoa anche Sanremo per aumentare un po' la presenza anche su tutta l'intera regione e anche perché qui a Sanremo comunque c'è una base logistica dell'esercito seppur piccola comunque degli uomini presenti qui sul territorio.